Stagione decisamente sfortunata per Bruno Fittipaldo. L'uruguaiano questa sera non scenderà in campo contro il Cezanimburg. L'atleta lunedì sera, nel corso di un contrasto di gioco, ha subito un infortunio al pollice della mano destra. La Scandone sta monitorando le sue condizioni fisiche, ma a quanto pare il ragazzo avrebbe riportato un problema al metacarpo e sarà fuori all'incirca un mese. Sarà fuori quindi anche nel match di domenica contro Varese. Un bello problema per coach Stefano Sacripanti che costringerà gli straordinari Ariel Figlioi e chiederà una mano a Lorenzo D'Ercole. Fittipaldo è il secondo infortunio grave della stagione dopo Chirillo Fesenco, che sta cercando di recuperare dal problema allo ginocchio, ma non sa ancora quando tornerà in campo. Per l'uruguaiano la situazione è diversa. Il playmaker ravelinese non ha iniziato la stagione come si aspettava, tanti alti e bassi, complice anche a un rendimento non eccellente della squadra, che lo hanno portato ad essere uno degli elementi più criticati. Nelle ultime settimane l'ex capo d'Orlando è sceso in campo spento, privo di sorriso, con la consapevolezza di non star giocando una grande palla a canestro. Le aspettative che lui stesso ha nei suoi confronti sono alte e fino ad ora non è riuscito a mostrare il suo potenziale. Questo infortunio non lo aiuta e potrebbe tornare in campo soltanto dopo la pausa.